Musica Domani si vota in Italia per rinnovare il Parlamento, urne aperte dalle 7 alle 23, tra le novità delle elezioni 2018, la scheda antifrode dotata di codice alfanumerico per evitare eventuali sostituzioni. Forte nevicata questa mattina in Valdaveto, impianti aperti oggi e domani e per tutta la prossima settimana, prorogata l'allelza meteo per neve sino alle 18 di oggi sui comuni interni di Genova. Linee ferroviarie e strade libere dopo il caos provocato ieri da neve e ghiaccio, le associazioni Codacons e Ossutenti si muovono per tutti i pendolari che nella giornata di ieri hanno subito disagi. I dazzi che l'America di Trump vuole imporre su acciaio e alluminio preoccupano le aziende del Tigulio, Arinox è già al lavoro per trovare le contromisure. Due incontri in preparazione alla giornata dei ministeri laicali e cantorie. Lunedì a Chiavari un momento per i ministri dell'Eucaristia, domenica prossima all'intervento di Don Paolo Tomatis. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura parliamo delle elezioni politiche 2018 al termine di una lunga campagna elettorale. Oggi è il giorno del silenzio in attesa del voto. Gli italiani sono chiamati a rinnovare i due rami del Parlamento. Si vota nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio per il Senato e poi per la Camera dei Deputati. Lunedì pomeriggio invece si procederà allo spoglio delle schede per le elezioni regionali che saranno in Lombardia e Lazio. Per esprimere il proprio voto occorre presentarsi ai seggi muniti di tessere elettorale e di documento di identità. Sentiamo tutte le novità introdotte anche dalla nuova legge elettorale. La legge del 3 novembre 2017, popolarmente conosciuta come Rosatellum bis, introduce un sistema elettorale misto, in parte maggioritario ed in parte proporzionale. Per la parte di assegnazione del voto con il metodo maggioritario, l'Italia è divisa in collegi uninominali, 231 per la Camera, 116 per il Senato. In ogni collegio vince il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi, rispettivamente 399 per la Camera, 199 per il Senato, avviene in collegi plurinominali, 63 per la Camera, 34 per il Senato, con il metodo proporzionale. Ogni partito presenta un listino bloccato di 2-4 candidati. I seggi sono assegnati ai partiti che hanno superato le soie di sbaramento, predeterminate dalla legge medesima, pari al 3% in proporzione ai consensi ricevuti. I candidati sono eletti in ordine di listino, non c'è voto di preferenza, salvo che per gli elettori dei 12 deputati e 6 senatori all'estero. Ad ogni elettore che si recherà il seggio saranno consegnate due schede, una rosa per la Camera dei Deputati ed una gialla per il Senato. Quest'ultima sarà consegnata solo agli elettori che abbiano compiuto il 25esimo anno di età. Su ogni scheda l'elettore troverà i nomi dei candidati per i collegi uninominali. Sotto ogni candidato ci sarà il simbolo del partito o dei partiti che lo sostengono, con i candidati dei listini ad essi collegati. Ciascun elettore ha la possibilità di un solo voto per ciascuna scheda che si può esprimere in tre modi diversi. Apponendo una croce solo sul simbolo del partito, oppure apponendo una croce sul simbolo del partito e una croce sul candidato. In questo modo il voto va sia al partito prescelto sia al candidato nel collegio uninominale collegato. Apponendo una croce è solo sul nome del candidato del collegio uninominale. In questo caso il voto va allo stesso candidato e a tutti i partiti che lo sostengono in proporzione ai voti ricevuti. Non è amesso il voto disgiunto. Per le elezioni politiche 2018 saranno introdotte le nuove schede elettorali dotate di appendice cartacea munita di tagliando antifrode, con un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Dopo che l'elettore ha votato e ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, quest'appendice con il tagliando sarà staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controlleranno se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore. Solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda nell'urna. E le elezioni politiche 2018 vedranno per la prima volta recarsi alle urne per ereggere i rappresentanti della Camera dei Deputati una classe di giovani nata nel 1999. Nella trasmissione direttamente su Leva 99 al voto abbiamo raccolto diverse testimonianze su come i neo-diciottenni si apprestino al voto. Curiosità, smarimento, interesse e perplessità sull'esito futuro. I giovani della Leva 99 che si apprestano per la prima volta a votare per il rinnovo della Camera dei Deputati non hanno totalmente le idee chiare ma nutrono grandi aspettative sulla possibilità di esercitare questo diritto. I ragazzi sono informati e non nascondono i loro dubbi anche sulla stessa legge elettorale. Secondo me la legge elettorale così com'è non va benissimo. Andrebbe rivista e fatta meglio perché secondo me non si arriverà mai alla maggioranza di governo che possa assicurare un governo all'Italia. Di politica si parla principalmente in famiglia o documentandosi personalmente sui mezzi di comunicazione e sui social. In famiglia si parla spesso quando ascoltiamo il telegiornale e ci troviamo qualche volta a commentare quello che sentiamo. Personalmente sono molto molto confusa. Per esempio io sono andato a leggere i miei programmi ma poi sono andato anche a vedermi le persone, che cosa fanno, che cosa hanno fatto, la loro storia, la loro occupazione. Il lavoro può dire tanto di una persona. L'attenzione dei giovani si concentra principalmente sui programmi elettorali, sui temi che stanno a loro più a cuore e anche su un tipo di informazione che spesso non cattura la loro attenzione. Possiamo dire di essere infatti la generazione che più di tutti usa internet e che meno di tutti ne fa buon uso in certi casi. Tanti social e poca realtà vera. La cosa più vicina a noi è la scuola. Quindi quello che un po' in alcuni programmi si può trovare, però non quanto si vorrebbe. È proprio una riforma della scuola che ridì, a mio parere, dignità proprio alla scuola. Una scuola che formi e che avvicini al mondo del lavoro in modo sensato. Fin quando siamo nel periodo elettorale è tutto molto più facile. Quando poi invece si è al governo si incontrano anche degli ostacoli e quindi non è più possibile molte volte mantenere la parola data. Il campione di giovani da noi interpellato eserciterà il proprio diritto al voto con le aspettative e l'entusiasmo che l'età porta con sé. Io spero che il mio voto abbia un peso e è quello che io mi aspetto. Forse è un po' in modo ingenuo dal voto, però dato che è ancora il mio primo voto spero che in qualche modo abbia un peso. E ora passiamo all'aggiornamento sulla situazione meteo. intanto con l'ultimo bollettino diramato dall'ARPAL della regione Liguria. Possiamo vedere la cartina della Liguria contrassegnata sempre dai colori giallo ed arancione ma c'è stata una proroga nell'allerta gialla per neve sulla zona B, quella di Genova sino alle ore 18 di quest'oggi e per i comuni interni. Su Savonese e in Val Daveto sono previste ancora deboli nevicate. Sarà arancione ancora sino alle 15 di oggi e poi sarà gialla sino alle 18. Nelle aree interne del Levante la quota neve è fissata sui 400-600 metri. Le precipitazioni nevose potrebbero interessare ancora le tratte autostradali. La protezione civile regionale segnala infine il rischio di gelate diffuse nelle zone interne. Intanto la viabilità ferroviaria e stradale è tornata alla normalità dopo la giornata di caos di ieri. Sentiamo. Rotaie libere e treni in funzione. Nella giornata di oggi la circolazione dei treni risulta infatti scorrevole in tutte le direzioni merito delle temperature in aumento e degli interventi del personale. Le linee ferroviarie sono tornate libere dalle 16.30 di ieri pomeriggio. Nonostante gli operatori lavorassero per sbloccare i binari le temperature rigide riformavano il ghiaccio impedendo così il passaggio dei convogli e bloccando ogni tipo di collegamento. Kodakons e Asso Utenti, associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, si sono prese carico di dar voce a tutti i disguigli dovuti al freddo e alla neve. Kodakons intende presentare un esposto alle procure della Repubblica di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, richiedendo un risarcimento per i danni subiti dai cittadini coinvolti nei disagi con la disposizione di precisi indennizi. A sua volta, Asso Utenti chiede a Ferrovia dello Stato il rimborso agli abbonati di almeno 100 euro al giorno per i danni psicofisici ed economici fatti patire ai viaggiatori da dicembre a oggi. In caso di diniego da parte del gruppo, Asso Utenti promette di ricorrere a una class action per tutelare i diritti di tutti i pendolari italiani. Le due associazioni invitano tutti i pendolari a inviare le proprie testimonianze dei disagi patiti su appendolari.italiani.it e avanzare richiesta di risarcimento utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito www.kodakons.it Anche la viabilità oggi risulta buona su tutte le strade, con traffico scorrevole in tutte le direzioni, secondo quanto riportato dalla Polizia Stradale di Chiavari. Non sono state segnalate situazioni di criticità sulla rete ordinaria. La pioggia ha infatti permesso di riaprire anche le arterie chiuse in via precauzionale. Se sulla costa le temperature sono aumentate in maniera sensibile, impedendo così la formazione di ghiaccio sul manto stradale, nell'entroterra si raccomanda ancora attenzione nonostante la presenza di asfalto adrenante e la dotazione di gomme da neve. E in effetti nell'entroterra del Tigullo è nevicata abbondante questa mattina in Val d'Aveto come dimostrano le immagini del webcam che sono state poste nell'entroterra, in particolare quella del Prato della Cipolla e del Monte Bue. Oggi e domani gli impianti di risalita sono aperti e lo resteranno tutti i giorni sino al 12 marzo. È tutto aperto, si legge sul sito di Schiarea, tranne la pista rossa basta. In laborazione invece il TP Roulan. Stiamo vedendo pronto le immagini che arrivano dalla Val d'Aveto. Cambiamo ora argomento. Come noto, l'America ha annunciato dazzi sulle importazioni di acciaio e di alluminio. La decisione di Trump ha scatenato la protesta di Europa, Russia e Cina e di una parte dell'industria statunitense. Si profilano effetti negativi anche per la siderurgia italiana. Preoccupate le aziende del Tigullo che stanno già adottando contromisure. A gennaio l'industria siderurgica italiana ha registrato un balzo nella produzione più 5,3%. Tuttavia il settore teme le strategie di Trump tese a proteggere l'America, i suoi lavoratori e a risollevare il deficit interno. Il presidente di Federacciaio Antonio Gozzi teme un contraccolpo forte sull'Europa soprattutto nel campo delle importazioni e sull'Italia che potrebbe vedersi costretta a rivolgersi al mercato domestico. Preoccupate le aziende del Tigullo, prima tra tutte Arinox. La legge 232 che Trump sta invocando per fare un protezionismo può avere un impatto importante su Arinox ma non solo su Arinox ricordiamoci che ci sono altre realtà nel Tigullo che esportano negli Stati Uniti d'America. Questo sicuramente può avere un impatto negativo si parla di dazi del 24% si parla di quote di esportazione. L'11 aprile Trump darà la sua decisione su questo argomento però sicuramente saremo impattati da questo prova che il mercato oggi è sempre connesso interconnesso e globale. Quello che succede in America dobbiamo guardarlo con attenzione perché avrà riflessi sul Tigullo non possiamo pensare che il Tigullo sia un'isola completamente staccata dal resto del mondo. Se Bruxelles si dice pronta a reagire alla mossa di Trump colpendo alcuni prodotti provenienti dagli USA a sua volta la siderurgia italiana studia le contromisure per evitare problemi dalla guerra commerciale innescata dal Presidente americano. Principalmente stiamo cercando di capire in che modo possiamo continuare a servire alcuni clienti in America. quelli che non riusciremo a servire dovremo servirli attraverso loro consociate negli Stati vicini. Quindi stiamo potenziando gli sforzi commerciali in aree come il Messico, il Canada, il Brasile che a loro volta poi possono fornire gli Stati Uniti non con il nostro prodotto ma con i prodotti che loro realizzeranno. E quindi salvare almeno una quota a parte della produzione che oggi per noi è abbastanza importante negli Stati Uniti. L'Unione Sindacale di base aderisce allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto per giovedì 8 marzo. Per quanto riguarda il personale viaggiante delle biglietterie di ATP l'azienda di trasporti della città metropolitana la stensione sarà di 4 ore dalle 10.30 alle 14.30. La pagina diocesana nel cammino di preparazione alla giornata per i ministeri laicali e le cantorie che si celebra nella quarta domenica di quaresima si inserisce un incontro di formazione per i ministeri che si terrà lunedì prossimo 5 marzo. Alle 20.30 nel salone di casa Marchesani a Chiavari sono invitati tutti i ministri diocesani dell'Eucaristia. Domenica prossima, 11 marzo prima della celebrazione della messa in cattedrale ci sarà un momento di riflessione con Don Paolo Tomatis direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino. Come è stata strutturata quest'anno la giornata dei ministeri e delle cantorie? Ma come ogni anno la giornata dei ministeri si inserisce nel cammino quaresimale più precisamente nella quarta domenica di quaresima ed è l'occasione da un lato per riflettere sul senso dei ministeri e soprattutto dei ministeri laicali nella vita della Chiesa e dall'altro un celebrare celebrare l'Eucaristia con il Vescovo e poi dall'altro lato istituire i nuovi ministri dell'Eucaristia, della Comunione, i lettori riconoscere il lavoro che fanno i sacristi e tutte le varie cantorie diocesane quindi riunirsi per riconoscere la bellezza del lavoro che fanno le varie persone che si prodigano nell'esercitare un ministero. Qual è l'importanza e il ruolo che svolgono le persone che appunto si adoperano per i ministeri laicali? Ma certamente quando si parla di ministeri laicali alle persone viene subito in mente il servizio che loro svolgono quindi la loro funzionalità. Il servizio è sempre prezioso ed è un bene per la Chiesa. Questo poi aiuta anche a vivere pienamente la liturgia perché lo sappiamo che il Concilio Vaticano II ha chiesto che la liturgia sia sempre più vissuta e partecipata consapevolmente e attivamente e penso che i ministeri laicali ciascuno nel compito loro proprio contribuiscono in maniera fondamentale a far sì che la liturgia proceda in questa direzione. C'è anche un momento di preparazione e formazione in vista della giornata? Certo, lunedì prossimo, lunedì 5 marzo ci vedremo con tutti i ministri straordinari della comunione per un momento di formazione insieme. Poi domenica 11 marzo alle ore 16 presso Casa Marchesani la relazione aperta ai ministri e ai cantori ma poi a tutti di Don Paolo Tomatis direttore dell'ufficio liturgico della Diocese di Torino è grande studioso anche dell'aspetto ministeriale della Chiesa e lui proprio verrà a parlare con noi partendo da questa domanda quale importanza della ministerialità laicale e dei ministeri all'interno della nostra Chiesa e dell'azione liturgica e poi alle 18 in cattedra della celebrazione con il Vescovo. Nella terza domenica di Quaresima le telecamere di Telepace saranno nella Chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure per la trasmissione in diretta della Santa Messa Domenicale la comunità parrocchiale guidata da un giovane sacerdote sanmargheritese Don Valerio Traverso il servizio di Telepace è un modo per conoscere più da vicino le parrocchie e al tempo stesso per illustrare ai fedeli presenti l'attività offerta dall'emittente televisiva al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV di Ocesana e raccogliere offerte domani dunque la Santa Messa in diretta alle 10.30 dalla Chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure su Telepace 1 al canale 15 su Telepace HD al canale 515 e indifferita alle 12.30 su Telepace 4 al canale 218 ora sfogliamo le pagine dei quotidiani e poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie Prima pagina di avvenire la politica italiana battaglia sul premier che non si può votare rischio caos gentiloni non gettiamo tutto via la legge non prevede l'elezione del presidente del consiglio ma gli ultimi scontri anche all'interno delle coalizioni sono proprio sul leader a centro pagina medici in allarme la dieta vegana danneggia il feto aumentano i casi di disturbi neurologici all'interno del quotidiano cattolico l'Unione Europea prepara la risposta ai dazi di Trump dalla Cina all'Europa il resto del mondo in rivolta contro il tycoon Bruxelles contesta il richiamo alla sicurezza nazionale trema pure l'industria americana e Juncker anticipa colpiremo i prodotti americani la Harley Davidson la Levis il Bourbon proseguiamo con la politica estera Burkina Faso torna il terrore raid all'ambasciata francese esplosioni e sparatorie nella capitale colpito anche l'alto comando dell'esercito 28 i morti la prima pagina ora del secolo XIX Liguria il ghiaccio ferma tutti i treni odissea nel gelo per i viaggiatori proteste e assalto ai bus caos anche sulle autostrade regione isolata per 12 ore il tema è ripreso anche sulla pagina del Levante ghiaccio tutti i collegamenti nel caos rete ferroviaria autostrade viabilità ordinaria in tilt stop ai bus in Valdaveto Bracco K.O. dopo la nevicata di giovedì un giorno di ordinaria emergenza in tutta la riviera a causa del gelo piogge diffuse in mattinata sulla costa allerta gialla per le zone interne del Golfo Paradiso arancione in Valdaveto temperature in aumento possibili altre nevicate ma soltanto ad alta quota all'interno vengono riportate le ore di incubo sul Bracco e la rabbia dei sindaci tutti contro l'assalto che ha sigillato i caselli riversando centinaia di mezzi sulle strade ordinarie il presidente della provincia della Spezia Cozzani dice inaccettabile il gestore si è fatto il possibile mobilitazione per la fake sull'allerta scuole chiuse a rapallo per smentire la bufala a catena di telefonate e messaggi ragazzi ieri legolarmente nelle classi grazie ad una capillare opera di informazione e poi sesti levanti a rapallo ultima notte per i dormitori provvisori comuni e volontari mobilitati hanno accolto tanti senza tetto a Chiavari resta aperto quello diocesano un'iniziativa di solidarietà e di volontariato ce ne parla dalla redazione Maria Bukovic grazie Cristina un saluto a tutti un fiore anzi due per fermare la sclerosi multipla è l'iniziativa che si svolge oggi in 5000 piazze italiane a favore dell'Aism ai banchetti dei volontari si può infatti acquistare un'ortensia una gardenia o tutte e due in cambio di un'offerta che sarà devoluta a sostegno della ricerca nel Tiguglio a causa del maltempo le postazioni sono solo tre dalla Cop di Sestri Levante e al Basco di San Salvatore di Cogorno aperti anche domani 4 marzo e all'Ipercop di Carasco attivo solo oggi l'iniziativa avrà una seconda chance sarà infatti ripetuta nel fine settimana del 10 e dell'11 marzo fino all'11 marzo inoltre si può effettuare una donazione al 455 67 grazie a tutti bene grazie grazie a Maria Bucovice dalla redazione continuiamo a rimanere in qualche modo in tema prosegue a Riva Trigoso l'iniziativa Usignolo d'Oro organizzato dalle parrocchie di San Bartolomeo della Ginesta e San Pietro la seconda serata del concorso canolo amatoriale per ragazzi inizierà alle 21 nel cinema parrocchiale ieri nel corso della prima serata è stata scoperta una targa in memoria di Stefano De Filippi un giovane della comunità sestrese mancato nel 2014 a causa di una malattia rara la tassia si è trattato di un segno di ringraziamento per tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per l'abbattimento delle barriere architettoniche del cinema gli amici della parrocchia e AISA l'associazione italiana per la lotta la sindrome a tassiche hanno in particolare contribuito al restauro dei locali alla costruzione di un bagno accessibile ai disabili e di una rampa per l'ingresso la doppia serata canora dunque l'obiettivo di sensibilizzare tutti i partecipanti bambini ragazzi e famiglie alle necessità di abbattere ogni tipo di barriera e siamo giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale ricordiamo che oggi la partita della Virtus Entella che doveva disputarsi a Brescia è stata rinviata a causa del mantempo vediamo proprio sul sito ufficiale della Virtus Entella la notizia che già era trapperata nella giornata di ieri gara rinviata data da destinarsi in seguito alla nota della questura lombarda con la quale vista la presenza di ghiaccio e neve in tutti i settori scoperti dell'impianto nelle vie di accesso e nei camminamenti ha valutato la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per la disputa della gara in mattinato si era riunito straordinariamente il GOS di Brescia allo stadio Rigamonti di Brescia e si conclude così questa edizione del nostro telegiornale l'informazione di Telepace torna questa sera a 19.15 20.30 22.45 grazie a tutti dell'ascolto buon proseguimento di giornata e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.